Ciao piccio. Ciao belli. Hello. Siamo Ida e Banned e oggi siamo su Full Mojo Rampage. 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 Ok. Rampage. Vabbè. Abbiamo preso questo gioco con i saldi di Steam come al solito perché siamo tutti e tre poveri. Scavocchete di qua. Abitorious. Clicca. Come come col mouse. Clicca. Clicca sul nostro mondo. Entra. Ok. Oh che carino. Quindi cos'è questo gioco? Derebbe essere un roguelike come in cui il mondo è sempre generato casualmente. Le vite sono tre. Per tutti. Quindi basta morire tre volte e abbiamo finito di giocare. I soldi sono condivisi. Vabbè. L'equipaggiamento no. Quindi Razzi per non può fottare come al suo solito. Io a Razzi abbiamo giocato un po' e siamo a livello più alto di Albertorius. E abbiamo personaggi differenti. Albertorius è il principale. Razzi va a Ogun. 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 è un Warlock che si toglie di vita a fare skill. E io sono qualcuno. Un bambino col cervelletto. E quella è la maschera. Puoi comprare la maschera a parte. Fai una skill e te lo dico. Ah quello McKean. Quello è più difficile. Il tank. Il paladino. Boh sì. Tipo. Comunque. Però che dobbiamo fare. Dobbiamo che tutti i portali. Ah Albertorius lo vedi? Oh cazzo. Lo vedi questa lapide di blu. BB blu. BB blu. Vasci e clicca con la E. Qua questa qui. Tieni la premuto. Sono dei segreti. Ti danno delle. Questa è una pozione ad esempio. Un gate. Ah. Sembra un fungo. E' una pozione che puoi usare nell'inventario. Ce l'avrai con 1, 2, 3, 4. E la puoi usare da lì. Questo è uno di quei portali di cui parlate. Dove sei? Sì se c'è il boss se l'utente sì. Oh dì. Boom. Baces. Ero poi un fuente. Boh. Era debito romperlo. Rubiamolo. Ragazzi hai un po di nemici qui. Ma dove ricevi? Io stò quando il portale e sto chiedendo. Questo è un medaglione. Questo medaglione lo usi per sbloccare maschera e personaggio. E le palline verdi che i nemici buttano in la vita. E' venita qua. Bam就是說. C'è bollinti. Buongi. Nella mappa trovi anche portali, porte che sono dorate. Ti portano in posti segreti. Speciali come questo. Dove sei Albert? Bertemerius? No. Qua. tipo questo è un miscelatore quasi c'è due oggetti in equipaggiamento due mojo che sono delle bambole le bambole potrebbero essere le mischi diventano un oggetto con le stesse caratteristiche combinati c'è uno scrigno qua vedi l'app un puntino giallone aiuto tu pigliateli pigliateli tutte e due tu cosa? hai preso due mojo in questo momento ah questo è lo shop puoi comprare aspetta io ho queste due cose come le combino l'audidice il miscelatore abbiamo finito il primo livello si arriva è sempre il ritardo ci metti quale che dobbiamo fare? devo chiudere di noi i portali come poco fa ah non ti occupare ma spruggho io il reggio faccio un portale già quando livello esatta mondo quando quella cosa viola arriva alla no quella è una specie tipo mana tipo no ti ama la furia quando ce la carica ti danno una caramella te la prendi la usi e tu evochi samedi che è il tuo protettore grande e quelli che hai già miscelato almeno non puoi miscelarli più esplosiva esplosiva attento tranquillo esplosivi esplosivi tantissimi esplosivi dai vai su il buco nero mamma mia la potenza del buco nero questo è healer quello è un esplosivo cazzo oh mi sono curato eh baby il mojo è quello che ti riportava in vita baby cazzo 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 quello che esplosiva tranquillo la naspruggia un tocco vai oh porca po te non te l'aspettavi tante persone che esplodono non me lo aspetto sono un sacco di persone che esplodono no 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 un altro che esplosiva un altro che esplosiva attento 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 e che stai fatta questo è lo scioppettaro ahahah figo eh boss mandingo grande mandingo guarda guarda quanto di vento no aiuto sono morto sono morto aiutatemi alzalo alzalo stupid ho potuto morire così attento eh perchè rimbalzano ste cose questo l'ho intuito stanno bastardissime aiuto anche ah 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 tu con lo spazio rotoli lo sai no cazzo 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 me l'avevo chiuso quando salta quando salta no non lo colpiamo no via dai sta morendo aiuto ah sta morendo che sta morendo anche qui l'abbiamo tutto sotto contro presso siiii ci sono di prendete saldi medaglione prendete tutte le saldi sono saldi vi 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 sono so tyranny attenta le palle prima ah avevo citato avverto ah io ci ho capito figlio di puttana quel blob ragazzi ero morto merda ah ok mi sembra si se ricomincia secondo round poi ho cambiato maschera ho messo una carina è colpa di rage ovviamente ancora di aspettare è sempre colpa di rage è sempre colpa di rage colunque cosa succede eh sono carino ahahah mamma mia ho scenduto ahahah 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 ah mio dio dove sono finito dove sono finito ero troppo veloce tranquilo asperudioto eh questo sparo questo sparo cosa è brutto e io vi uccido tutti ahahah eh tortale eh eh mi napolirà la zona auridis arrivo io guarda l'esplosione no era per fronte le skill come le sblocco no sblocchi i personaggi che hanno skill diverse e basta ahhh è interesting ti regge dai tocca alberto sei nel mio tempo sappiamo chi sei cattolino abbiamo qualcosa per vedere questo non ce l'ha essere amuleto è per te dovresti essere te ad averlo basta tutto qui ora me lo spiegate cosa ho letto quello che ho letto non siamo carini io seguo voi chissi oh cazzo tranqui è morto SPACCO TUTTE VE SPALEVA! SPACCO TUTTE VE COSESPA SONGIONA PUTINZ ESPLODONO BOOM Attenzione Albertorius sta migliorando Prima è sotto lo shop, andiamo sotto Stavo leggendo, stavo leggendo, raga mi pare ovvio che hai perduto tempo Scusa, ho detto una questione Eh ma me lascia fare ora le combo però E' sempre isolato Ma io vado ultimo Che c'è? Mi piace il delirio tremendo Oh cazzo Ma che cavolo mi ha appena curato No, si è chiusa la porta Voglio uscire Aiuto Che benzoile io? Spaccolo TUTTE Oh che figo c'è, beh, capito? Spaccolo TUTTE Sto per morire curatemi No, 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 no No, 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 no! Ah ma è... Dai, ma non lo prendi Ma che dici beh, raccontavamo Ispettatemi amici Qua c'erano i boscati Lo sapiamo Ammetti E' massacro Soldi Soldi, 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 soldi Quante soldi vorrei Sto leggendo Immagino Ok, non so leggere Che c'è scritto? Ho provato a leggere Oh, 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 oh Ah, boss Di nuovo Mandingo Mandingo Vai con Mandingo Chiamo il cannone alleato Mandingo Guarda la cannone che ho chiamato Facca, 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 facca No, no, no Rimbalzo di merda Ma perché ce l'ha con me? Ma che vuoi? Ma porca bo Dai, così morto Vai e muore E' morto Grandi Soldi, 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 soldi Troppi, troppi, soldi Soldi Mamma mia Sono stato il più devastante Ma bo Ma perché? 152 colpi sparati Sì, compa, la precisione 20% di sparati Perché avevo il proiettivo a tre, compa Uno lo prendevo Due li disciavo Chiudi i portali Guarda Eh, vedi che saurisce Cretino No, ho sbagliato Ho usato il mio rampage Vabbè Sono enorme Lo sprecato Ieri ha già la serchio Ma quando l'ho presa Meeh, guarda qua Il laserone Austin Powershit Salve, avventuriero Oggi ho un affare rischioso da propor Ti decu... Ma che cazzo? Beh Da parolone arriva Sì, guarda mia Decuplicherò Bravo La tua salute non sarai più in grado No, no, io non accettare Dai, dai Sto leggendo Che cosa le pensi? Dimmelo Wow No, su Risponderei alle siciliane Dicendo Stai Declino gentilmente l'offerta Caro signore Questo non è un doppiaggio Che non ho Minchia, io ti accetterei Ci danno il decim... No, sei una merda Non ci posso ricaricare più Aiuto Mi inseguo una larva schifosa Ti ricordo troppo È il mostro di Ghostbusters Di Ghostbusters, sì Non dico dove si chiamava Sa, è Slider 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 Ah, cosa è simile? Slider 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 Sli Che cos'è sta cosa che mi ha sicuto Aiuto Ciao Mio Dio, no Mi sono mostro troppo sbagliato tutto Cazzo Perché ne ho usato ora la gallina? Eh, ho sbagliato tutto Adesso c'è uno con le spade Che mi ha sicuto No, sono resistente Eeeeee Eeeeee Sì, ma figli di... l'epoca una parola all'idea portavano al centro è vero cazzo sono regalo secondo me spavola con l'ela grande del culo per te mori 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 aiuto grazie due galline giganti stalk io non ho capito non avrai se tecnici io sono cercando aiuto arrivo da soli ci sono io gli amici non ridere si vede di me e pollini la storia gallina stalker che tra altre galline stalker tutti i stalker un'altra è una scagazzata bar che cazzo ho fatto cazzo fa ma io non sto sparando l'acqua che sto sparando giù l'acqua 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 aspettate beh immagino tu sia qui per che hai sentito parlare dei miei esperimenti però fammi capire un bastone intagliato perfettamente è proprio quello che volevo grazie mister samei prego curo quindi lo accettiamo c'è hito last one il boss burmling bacchetta in laghetto di pollo chi potava sapere che infilare un pollo su un bastoncino poteva renderlo così potente lo devo provare andiamo lezzamoni mi spacco il cuore spaccato lo destruttore cioè che schifo di affinità oh che cazzo da massacrato siamo potenti non è minchiata signori vabbè grazie grazie non vorrei dirlo ma grazie a alberto ma erano due soldini schifo lo scagazzata che schifo farai qualunque cosa dimostrarci il tuo valore continui quindi picciotti per questa possiamo dire campagna storia per il primo capitolo è tutto io vi saluto ciao 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 belli a Mi ricordate di iscrivervi o mettere un mi piace Se vi è piaciuto, questo ci aiuterebbe tanto Detto questo, ciao ciao Ciao, bye bye